A partire dal 1 gennaio 2022 entrerà a regime il nuovo metodo di calcolo dei canoni di locazione delle abitazioni a canone concordato. Il nuovo regolamento ha cambiato il calcolo dell'affitto dal reddito imponibile all'Isee. Questo rischia di mettere in ginocchio circa 5.300 famiglie Umbre su 8.270 assegnatari. Sono famiglie monoreddito, mononucleari, pensionati, persone con disabilità che andranno in sofferenza a causa dell'aumento della locazione e il rischio è che queste famiglie potrebbero andare in morosità e andare incontro ad uno sfratto esecutivo. Il nuovo metodo di calcolo ha avuto una fase di sperimentazione prima dell'entrata a regime il 1 gennaio prossimo e ha già fissato un aumento del 15% della locazione il 1 gennaio 2020. E nell'anno successivo un aumento ulteriore sull'ultimo canone che va a sommarsi al primo aumento per un totale di più 26,5%. Abbiamo dimostrato che famiglie con un reddito di 500 euro al mese, noi parliamo di una persona anziana, un single che ha un reddito di 500 euro mensili, sono oltre 6.000 euro di Isee. considerate che questa persona, questo anziano, questo disabile, spesso e volentieri, questa persona pagava nel vecchio sistema massimo 48 euro mensili e mi sembrava una cosa più che equa. Con questo nuovo sistema, per una stortura di questo nuovo sistema, questa persona a regime nel 2021 dovrà pagare 140 euro circa. Voi considerate che un reddito di 500 euro mensili, quando gli è tolto 140 euro, speriamo che quella persona non deve fare accertamenti, quella persona non deve avere nessuna spesa perché altrimenti non potrebbe pagare il canone. In conferenza stampa i sindacati degli inquilini e assegnatari SUNIA, SICET e UNIAT dell'Umbria hanno annunciato la programmazione di una serie di assemblee per informare i cittadini e cercare di trovare l'attenzione delle istituzioni preposte.